C'è un carabiniere che rientra da una missione all'estero all'improvviso, notte fonda e non svegliamo e si spoglia fuori dalla camera, entra in camera e rampe in ombra, piano piano si mette nel letto, tira sul lenzolo per coprirsi e si scoprono i piedi, questo a un certo punto un curiosito guarda i piedi e gli contano, fa uno, due, tre, quattro, cinque, sei, come sei? Salsa di schiatto, va davanti al letto, gli riconta, uno, due, tre, quattro, ah me l'ho sbagliato!